Cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e in FIPILI. In FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze, sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori, tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Prima di salutarci, ricordiamo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana a Firenze, con l'istituzione di provvedimenti di circolazione, la manutenzione dei marciapiedi in via Orsini, lavori alla rete del gas in Viuzzo di Ugnano e via del Donicato e il completamento della rete in fibra ottica in via Pietrapiana e via Martiri del Popolo. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!